Poteva andare molto peggio e anche stavolta ci è voluto il mago per risolvere la partita. Little Basket di Simone Pianigiani, nella seconda gara barese delle qualificazioni ai campionati europei del 2011 in Lituania, riesce a complicarsi la vita anche con la non irresistibile Finlandia e solo il fisico e i 24 punti dell'asso NBA dei Toronto Raptors, Andrea Bargnani, hanno tenuto in piedi gli azzurri fino alla vittoria finale. Di fronte al presidente federale Dino Meneghin, al sindaco di Bari Michele Emiliano e all'ex compagno Gianluca Basile, ruvese doc premiato per la lunga militanza in azzurro, i ragazzi di Pianigiani sono partiti bene nei primi due quarti, soprattutto grazie a Gigli e Bellinelli, altro gioiello NBA, che insieme a Bargnani hanno portato la squadra a guidare per 47 a 34 all'intervallo. Ma nel terzo periodo un blackout di 4 minuti consentiva ai nordici di infliggere agli azzurri un parziale di 13 a 0 che li riportava sotto fino al 57 a 51, con grande gioia del collega finnico. Poca concentrazione in difesa e un po' di stanchezza di troppo nei minuti restanti permetteva ai finlandesi di restare in partita fino agli ultimi 120 secondi, quando Bellinelli e Bargnani, sfruttando qualche ingenuità in fase di copertura, riportavano l'Italia intorno a un rassicurante più 10, fino all'82-73 finale, suggellato dai tiri liberi del piccolo Antonio Maestranzi. Prossimo appuntamento per gli azzurri mercoledì 11 in Montenegro, prima della pausa di Ferragosto, quindi trasferta in Israele e ritorno in Puglia per le decisive gare con Lettonia e Montenegro, sperando che il Palaflorio diventi davvero il trampolino per l'avventura europea del prossimo anno.